Si è celebrata ieri presso il club La Tartaruga di Ariano Irpino la giornata dello sport e della creatività del liceo Pietro Paolo Parzanese che ha visto coinvolti tutti gli studenti dell'Istituto del Tricolle in lezioni di danza, laboratori creativi e tornei di vario genere dal calcio a 5 al tennis, dal basket al beach volley. Un momento di incontro tra i ragazzi del liceo proprio sulla sirena dell'anno scolastico 2022-2023 ma anche l'impegno teso a valorizzare la funzione dello sport e dell'arte tra i giovani. L'appuntamento ritorna dopo qualche anno di assenza. A causa dell'emergenza sanitaria infatti la manifestazione era rimasta in stand-by. E proprio per questa ragione l'edizione di quest'anno ha anche rappresentato per tutti gli studenti del Parzanese un ritorno alla completa normalità. L'entusiasmo e grande partecipazione sono state le due prerogative principali di una giornata in cui i ragazzi hanno mostrato tutta la loro voglia di mettersi in gioco durante le attività che hanno coinvolto anche gli insegnanti del liceo. E l'apice in questo senso è stato toccato grazie alla partita di calcetto tra maturandi e professori. Evento realizzato grazie all'impegno dei vicepresidi Marco La Carità e Michele Buongiorno, agli studenti che hanno organizzato e gestito le attività e alla presidente del club La Tartaruga e del Panathlon Club Ariano Irpino, Lucia Scrima, con la collaborazione dell'Associazione Immaginazione.